Le piogge delle ultime settimane avevano interrotto i lavori di ripristino dei muri a secco di Varchignoli, in Valle Antrona, ma si stanno concludendo proprio in questi giorni. I lavori sono iniziati nell'ambito del progetto Socialp, grazie ai fondi ricevuti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza negli scorsi mesi. Era rimasto in sospeso un solo muro a Viganella, dove si è evitato di lavorare perché le barbatelle da vite appena impiantate non si danneggiassero. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.